Ho visto il modo con cui la gente mi ha accolto? Questa ovazione, questo applauso prolungato. Questa è la mia gente, questo è il mio popolo. Questi sono i miei amici, il meeting l'ho fondato io assieme a qualche altro amico. Quello che conta è questa gente, non è chi parla dal palco. Ascoltiamo tutti con grande interesse, ma soprattutto ci interessa portare avanti questa esperienza di famiglie, di giovani, di adulti che hanno costruito il meeting con le loro mani, che servono al meeting da volontari e che portano avanti un'esperienza cristiana profondamente incarnata nel mondo. Il meeting è questo e nessuno può togliere a chi lo desidera la partecipazione ad un evento così straordinario. Il Presidente della Compagnia delle Opere ha detto, lei non è un studio speciale? Guardi, abbiamo già parlato e risolto questa questione. Quello che conta, ripeto, è che il meeting è aperto ad ascoltare le esperienze di tanta gente. Io sono qui dalla prima edizione, mi vanto di essere l'unico ad aver partecipato a tutte le edizioni, assieme agli amici del meeting di Rimini, ma di extra riminesi sono l'unico.